Edder, Mech, Pallister. La sera dell'omicidio disteso sul divano, ma poi si scoprirà che in realtà era sceso nel garage lui e non la moglie a prendere il cibo per i gatti e si scoprirà anche contrariamente alle sue dichiarazioni che il giorno del ritrovamento di Pierina scende sì con l'ascensore ma risale per via delle scale. Adesso vediamo la foto della moto distesa sull'asfalto a destra della quale potrete notare le gambe di Luis disteso a terra. Grazie a tutti Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo caso. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo caso. Grazie a tutti.